Caregiver domande e risposte. Il servizio, in genere, ma è comunque sempre opportuno verificare sul sito del Comune di Residenza, non è previsto per gli studenti con disabilità che frequentano i centri di urni, di riabilitazione o di accoglienza, in quanto gli stessi, a seguito di convenzioni con la Regione, ricevono già finanziamenti per tale servizio. Grazie a tutti.